Il commissario del consorzio di Bacino Salerno 1 è stanco di subire critiche per colpe non sue per il disservizio del comune di Pagani. Il commissario dottore Siani denuncia i dipendenti e chiama in causa l'arma dei carabinieri e la magistratura per capire o almeno tentare di comprendere quale significato hanno le certificazioni di malattia o di infortunio sul lavoro che quotidianamente pervengono sul tavolo dell'ufficio personale del consorzio. Purtroppo devo dire che alcuni dipendenti del consorzio ignorano di considerare che c'è una crisi economica che sta stringendo alla cule il paese, non considerano che il consorzio di Bacino Salerno 1 ad oggi non ha un solo stipendio arretrato, ha pagato anche le 14esime per intero, credo che in Campania sia l'unico consorzio, sta pagando le finanziarie, un anno di arretrati finanziari, stiamo facendo fronte al pagamento delle finanziarie o gli uffici che stanno lavorando per questo, ma ciò nonostante, dico un cantiere su tutti, il cantiere di Pagani, quotidianamente abbiamo 20-25 unità in malattia nei mesi di luglio-agosto. Non ho capito, vuole ripetere, è piacere, ogni giorno su quanti operai? Su una sessantina di operai abbiamo un terzo di questi operai, addirittura il 40% in determinati giornate in malattia, luglio-agosto. Commissia Piscale e Maraglia? Io sto preparando un esposto alla Procura della Repubblica, che inoltrerò per il tramite della tenenza dei carabinieri di Pagani, per verificare che cosa sono queste malattie, che cosa sono questi infortuni. Questi dipendenti la devono finire, devono capire che il tempo delle vacche grasse è finito, pensassero a lavorare e difendessero il lavoro per il rispetto di chi oggi non ha lavoro, per i pari di famiglia che oggi non hanno lavoro. Quindi se io mi lamentassi e dicessi che il paese è sporco, lei come mi risponderebbe? Lavoro con il 50% degli operai. Continua il Commissario Siani nell'annunciare l'impegno a trasferire i consorsi di Bacino alla società ecoambiente della provincia, affinché si possa trovare una soluzione alla miriade di problemi che hanno attanagliato i consorsi dalla nascita fino ad oggi. Si tenta di risolvere il problema dei rifiuti solidi urbani e garantire alle città che partecipano e che hanno partecipato ai consorsi di risolvere i problemi di igiene in maniera ottimale, diversamente come purtroppo è avvenuto fino a questo momento. Stamattina ci siamo incontrati in provincia per provare a pianificare in tempi strettissimi il passaggio dei dipendenti dai consorsi ad ecoambiente. Diciamo che lo stiamo facendo in zona Cesarini perché avremmo potuto farlo anche nei mesi scorsi, però non è mai troppo tardi. Potrebbe essere in questo momento sicuramente non la panacea di tutti i mali, ma potrebbe essere un momento di serenità per i consorsi e quel che è più importante per le comunità che serviamo.